Post pandemia abbiamo deciso di riformare la squadra per dare spazio ai nostri giovani di luogo sano. La squadra giocherà le partite in paese? Sì, la squadra ha il suo stadio in paese e giocheremo lì in un'ottima location per poter riproporre il calcio nella nostra zona. Lugosano ha avuto in passato anche una squadra fortissima che batte ogni tipo di record presente anche alla domenica sportiva qualche anno fa. Vorreste ripercorrere quelle urme? Sì, quelli furono anni bellissimi, il luogo sano dei record e dei record. Sì, noi stiamo tentando praticamente di riproporre quel tipo di esperienza partendo però dal basso. e quindi cerchiamo di imitare quel tipo di situazione lì. Hai allenato anche l'Under 18, la Juniors dell'Eclanese qualche anno fa, esperienze per te a Roma sotto il punto di vista della preparazione atletica. Dunque, Raffaele Di Maio, quest'anno torna in pista da capo allenatore? Sì, delle esperienze bellissime tra le quali quella dell'Eclanese dell'Under 18. Sì, quest'anno sono stato contattato dall'FC Lugosano per poter riproporre il mio calcio. Speriamo di far bene per questa squadra. Come mai Lugosano negli ultimi anni però non ha avuto il calcio? Diciamo che è stato più che altro una problematica post-Covid, credo. Però quest'anno ci riproponiamo di esprimere il nostro calcio con una squadra praticamente nuova composta da tanti dirigenti, diciamo ex calciatori e persone imprenditori del posto. Il presidente della squadra invece chi è? Il presidente della squadra è Michele Pacillo. Il presidente della squadra è Michele Pacillo.